L'Asla Vezzano Sulmona L'Aquila cerca locali nel territorio di Sulmona per individuare una sede da adibire a centro di salute mentale con annesso centro di urno psichiatrico e a neuropsichiatria infantile. È stata l'azienda sanitaria nei giorni scorsi a pubblicare l'avviso pubblico sul sito internet dopo che il comune di Sulmona ha chiesto la restituzione dell'immobile dell'ex Croce Rossa, fissando in 30 giorni il termine entro il quale l'Asla avrebbe dovuto sgomberare lo stabile e versare le somme dovute per locazione. Il bando, reso pubblico lo scorso 8 gennaio dall'azienda sanitaria, scadrà il primo febbraio 2016. Nel frattempo come sede da locale a CSM si pensa anche all'ex caserma Cesare Battisti. Lo scorso mercoledì è stato effettuato un sopralluogo sul posto dal sindaco di Sulmona Peppino Ranalli e dal manager protempore dell'Asla Teresa Colizza. La convenzione che individuava lo stabile della zona artigianale di proprietà del comune come sede temporanea del CSM era stata stipulata nel mese di settembre di un anno fa, dopo il sopralluogo dei carabinieri nella sezione NAS di Pescara, nella ex sede di via Mazzini, giudicata in idonia ad accogliere ospiti con quella patologia. Su richiesta dell'Asla il comune aveva trovato una soluzione provvisoria per sei mesi, mettendo a disposizione ai locali dell'ex Croce Rossa. Ora, passati sei mesi, il comune rivuole l'immobile, nonché il pagamento dei cannoni di locazione a retrati.